Gambe a larghezza del bacino, apro bene le spalle, pancia dentro, mi allungo il filetto che mi tira asciugare sul soffitto, inspiro, sollevo le spalle e inspiro a basso. 10, 9, 8, 7, 6, movimento dolce, 5, 4, 3, 2, 1, cambio in giro in avanti, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, apro bene le spalle esterno, vai in avanti, inspiro, inspiro e rilasso, pancia e perna, inspiro e espiro. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, prezzi, di subito e tiro su conto, salgo i 6, 4, 5, 6, 3, 4, 6,izado, insieme, su 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 su, 4, 3, 2 e 1, e giù, braccio destro porto a sinistra, allungo, allungo, la spalla bene in bassa, giù, giù la spalla, sempre lontano dalle orecchie, cavio, braccio sinistro, porto a destra, e giù, il braccio destro porto di lato, e guardo a sinistra, in angolino in giù, inspiro, espiro, guardo il braccio, giù, guardo il braccio, giù, guardo il angolino, a sinistra in giù, guardo il braccio destro, giù, e giù, giù, e giù, su, e giù, su, e la spalla giù, benissimo, cambio, su a destra, inspiro, e spiro giù, verso il braccio sinistro, su, e giù, su, e giù, su, giù, un'altra volta, benissimo, prendo il braccio destro con la mano sinistra, lo porto giù, verso sinistra, il capo fletto leggermente a sinistra, cambio, prendo con la mano destra, afferro bene il polso, del braccio sinistra, lo porto verso la mano destra, il fletto leggermente, il capo a destra, non sforzate, in treccio le dita, e cerco di allontanare le braccia dal giusto, mantenendo sempre le spalle basse, pancia piatta, e sempre allungamento verso su col capo, respira, respira in questa posizione, da qui scendo col capo fuori l'aria, inspiro, guardo in avanti, in alto, e spiro giù, movimento dolce, sento l'allungamento, l'entrata cervicale, non sforzate, non sforzate, non sforzate, spiro giù, e scioglio, benissimo, la gamba sinistra va indietro verso destra, lei incrocia, il bacino guarda in avanti, appoggio bene il piede, appoggio bene, sono tutti e due piedi appoggiati, porto sul braccio sinistro e vado in pressione laterale, sempre avvicinando verso alto, pancia dentro e dentro, il braccio destro scivola verso giù, sinistro verso su, inspiro, sento come viene che si aprono le costole, giù, cambio, la gamba destra incrocio dietro, sul braccio destro verso sinistra, il braccio sinistro, scivola lungo il fianco, respira, respira, peggio, benissimo, piedi in larghezza del bacino, iniziamo a fare la nostra piccola sequenza, piedi collegato e tutti e due vado in mezzo squat, salgo su e la gamba va, sinistra indietro, il braccio sinistro in alto, come prima, di nuovo mezzo squat e cambio, mezzo squat e su, inspiro giù e spiro su, inspiro giù e spiro su, appoggio bene il piede dietro, ancora, ancora una volta per lato, facciamo un bel allungamento del fascio laterale, opp, e stop, adesso di nuovo incrocio la gamba sinistra, vai indietro, però faccio il passetto ancora più indietro, più grande il passo, di nuovo su, su 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 col braccio, piedi tutti e due bene appoggiati a terra, sento più tensione anche sulla parte posteriore, adesso sento dietro il polpaccio, cambio, cambio, e incrocio l'altra gamba, sempre facendo bel passo indietro, e ritorno, divarico le gambe più larghe del bacino, con le punte leggermente divaricate fuori, andiamo giù con il busto, schiena bella dritta senza fare le gobe, quindi inspiro, porto le braccia su, espiro, scendo con il busto, parallele per terra, e ritorno su, inspiro, scendo fuori l'aria, ombilico bene in dentro, e ritorno e inspiro, scendo e spiro, salgo e inspiro, scendo e inspiro, e su, ancora due volte fuori l'aria quando scendo, inspiro quando salgo, fuori l'aria quando scendo, e inspiro quando salgo, benissimo, da questa posizione andiamo a piegare la gamba destra, braccio sinistro, la gamba destra, schiena ben allungate, mantengo, mantengo questo allungamento, cambio, allungo, 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 torno al centro, e giro i piedi un pochino in dentro, e scendo giù, afferrando bene le caviglie, rilasso il colo, respira, salgo, sciù lentamente, sbottolando una vertebra a volta, e rigiro di nuovo le punte verso fuori, scendo, piego tutti e due gambe, bell'appoggio, sistematevi che si è ben radicati i piedi a terra, scendo, tutti e due gambe piegate, la posizione da partenza, spalle lontani dalle orecchie, bell'inspiro, espiro, scendo sulla gamba destra, stendendo bene la gamba sinistra, torno al centro e cambio, al centro inspiro, espiro cambio, al centro due gambe piegate, scendo una gambetta dritta, al centro due gambe piegate, scendo allungo, 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 ancora, ancora, una volta per lato, allungo, 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 e, benissimo, stendo le gambe, e scendo di nuovo con la schiena dritta, portando le braccia in avanti, e salgo, braccia, parallele per terra, in linea con la schiena, con il capo, e salgo, ancora due, e su, ultimo, e su, benissimo, scendo di nuovo sulla gamba destra, appoggio la mano destra vicino al piede, e il braccio sinistro su verso alto, seguo, seguo, seguo con lo sguardo, respira, e torno su, cambio, piego la gamba sinistra, ginocchio, sempre seguo la punta del piede, noi in dentro, bene appoggio, eh, scendo con la mano sinistra, destra su, 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 su verso alto, e in su, benissimo, di nuovo giro i piedi, leggermente in dentro, scendo, 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 scendo di più, affero bene le cariglie, appoggio le mani davanti, e spingo i gomiti verso il pavimento, in cerca di appoggiare avambraccia, a terra, in giro, ok, rilascio il capo, salgo, scendo le mani, e da qui, porto il braccio destro su, respira, 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 cambio, sinistro, ripetiamo, bella spinta dalla mano, dalla terra, sul braccio verso il cielo, cambio, cambio, le mani a terra, e inizio a chiudere le gambe, con un passaggio piccolino, 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 larghezza del braccio, piego le gambe, e stendo, chi dove arriva, piego, inspiro, espiro, stendo, piego, inspiro, espiro, stendo, piego, stendo, e rimango per qualche respiro, piego, e lentamente, salgo, sciù, un'averto della volta, spingendo bene, un belito in dentro, benissimo, ritorno in posizione, le gambe un po' più larghi del bacino, la punta a sinistra, giro bene fuori, ok, che guarda verso il muro, mi giro un po' fino a sinistra, cerco di spingere bene il bacino, il piede destro, le mani bene a terra, allungo bene il braccio destro, lato destro, vedete allungato, braccio destro, la gambetta destra, allungo, ben inspiro, su, 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 pancia piatta fuori l'aria, scendo giù, le gambe si rimangano dritte, di nuovo su, inspiro, espiro, provo a scendere di più, su, inspiro, espiro, scendo ancora di più, mantengo, mantengo, mantengo posizione, su, con due braccia su verso alto, scendo completamente, scendo, scendo, scendo giù, piego la gamba destra, sinistra, scusate, sinistra, e allontano viene la gamba destra indietro, siamo completamente girati, con due braccia, ginocchio sopra la caviglia, appoggio il ginocchio della gamba destra, per terra, e su con le braccia, su con la schiena, appoggio anche il colo del piede, su, 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 benissimo, da qui, valenzio, respiro, vado indietro, stendo la rombetta in avanti, scendo bene su quella dietro, dove arrivo, ritorno, appoggio bene, dita del piede, destro per terra, porto le braccia fuori, stacco il ginocchio dal pavimento, benissimo, braccio, destro vado ad appoggiare per terra, su, sinistro, ritorno, su, stendo la rombetta davanti, piego di nuovo, appoggio due mani a terra, e stendo la gamba sinistra indietro, vado in plan, schiena bella dritta, spalle lontane dalle orecchie, mi allungo, spingo bene con i taloni indietro, con la gamba destra, bel passetto in avanti, ispirando, e risalgo, benissimo, chiudo, chiudo, sciolgo un attimo, e ripetiamo tutto, da capo, da altra parte, divarichiamo le gambe, la gamba destra, bene il piede fuori, sinistra va verso destra un pochino, il braccio sinistro sale, sistemate bene che sia tutti e due i piedi ben appoggiati a terra, inspiro, inspiro, espiro scendo con la schiena dritta, inspiro salgo, espiro scendo di più, espiro salgo, scendo scendo, scendo scendo, scendo scendo, rimango, rimango, su con due bracci, giù completamente, rimango, piego, piego la gamba destra, ruoto bene con la sinistra, ok, ci siamo, appoggiamo il ginocchio, a terra, e sciù con due braccia, allungo, braccia lateralmente, stacco il ginocchio dal pavimento, mantengo, mantengo, la manina sinistra per terra, braccia destra su, su, off, appoggio il ginocchio, due mani, appoggio il collo del piede dietro, e stendo la gammetta in avanti, scendo, scendo bene indietro, ritorno, appoggio il dita del piede, e stendo la gammetta dietro, opp, plan, bella linea, pancia dentro, 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 talloni spingano indietro, il capo in avanti, passendo in avanti, fuori l'aria, spingano, spingano, e su, benissimo, e chiudo, 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 sciolgo un attimo in posizione, andiamo su, in fondo, qui, piede, sempre l'altezza del bacino, ben spingano su, fuori l'aria, scendo in avanti, le gambe leggermente piegate, e vado in avanti con i passetti, in avanti, in avanti, in avanti, chi riesce, tiene adesso le gambette dritte, talloni, accoggiate a terra, e facciamo, canna, testa in giù, spingano, pieghe e testa tra le braccia, il busto verso le gambe, chi non ce la fa, mantiene le gambette piegate, respira, spinge, spinge bene, torace verso il pavimento, bacino verso il sciù, da questa posizione vado in plank, vado in avanti, vado in plank, ben inspiro, ispirando, la gambetta destra in avanti, vicino la mano destra, hop, ritorno, e la gamba sinistra, e spingano vicino la mano sinistra, hop, e ritorno, ancora ripetiamo, destra, mantengo, mantengo la posizione, bella spinta, il bacino non cade verso il pavimento, indietro, indietro, e sinistra, e indietro, e indietro, cammino con le mani, indietro, e vado di nuovo, cane e testa in giù, spingo, 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 la gamba destra, però questa volta il piede neto in mezzo tra le mani, oh, appoggio la gamba sinistra per terra, su, e cerco di afferrare bene la caviglia, pronti? oh, allungo, allungo il quadricipite, stop, cambio, stendo la gamba destra, sinistra al centro, su, la caviglia destra, e giù, benissimo, andiamo in ginocchio, la gamba sinistra di appoggio, destra di lato, scendo col bacino sulla gambetta sinistra, se uno non ce la fa scendere completamente, ricordate, cuscino, o chi ce l'ha la palla, ok, tra la gamba e gluteo, scendo e appoggio l'avambraccia, rimango, rimango, allungo bene l'interno coscia, adesso vado con le mani in avanti, lungo bene anche la schiena, chi ce la fa, poggia fronte sul tappettino, ogni posizione qualche respiro profondo, ridurmo su, la gambetta sinistra adesso va in avanti, e mi siedo sul fianco sinistro, fletto anche la gamba destra, appoggio bene la mano sotto la spalla, scusate non sotto la spalla, indietro, indietro, faccio il bel inspiro, e spiro, faccio bella spinta dal pavimento verso su quel bacino, e scendo giù, facciamo sei ripetizioni, pronti, inspiro e su fuori l'aria, e giù, ancora cinque, e giù, quattro, giù, tre, giù, due, giù, uno, e giù, e cambio, la gamba sinistra, stendo, destra in ginocchio, allungo, 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 scendo, sulla gamba sinistra, gambetta destra bene distesa, appoggio l'avambraccia, allungo, vado in avanti con le braccia lungo, anche la schiena, e su, la gambetta destra in avanti, tibia parallela in linea del tappetino, sinistra, piego, fletto, mano bene indietro, bel inspiro, espiro, salvo, su, sei, e giù, cinque, reggio, quattro, giù, tre, due, ultimo, e giù, la gamba destra distendo, sinistra, fletto con il piede dentro, ok, piede a martello, vado con la mano destra, a prendere il piede destro, chi non ce la fa, mette la manina dove che arriva, ok, spingo il ginocchio sinistro verso il pavimento, e su quel braccio sinistro, scendo a destra, mantendo la posizione, potete afferrare proprio l'aluce, spingo il ginocchio verso il pavimento, e su, spalla bassa, mi tiro, mi tiro, mi tiro, cerca di non cadere in avanti, tutti e due i gambetti, bene di varicate, prendo tutti e due l'aluce, apro, apro, apro bene le gambe, e scendo, ricordate che siete seduti sui schier, schiena dritta, stendo, stendo le vertebre, di nuovo rilasso a rotondo, stendo le vertebre, schiena dritta, un giro che ce la vedete meglio, schiena dritta, e rotonda, dritta, e rotonda, ancora due, dritta, fuori l'aria rotonda, dritta, e rotonda, e leggo, chiudo, schiena bella dritta, e scendo, e sciolo, benissimo, ben inspira, fuori l'aria, e uno, ottimo lavoro, ciao a tutti,